Un difetto visivo sempre più frequente nella società di oggi è la miopia, la miopia giovanile in particolar modo? Assolutamente sì, sempre più ragazzi sono miopi a causa dell'utilizzo di dispositivi elettronici, anche sicuramente la fase della pandemia non ha aiutato ovviamente a causa della DAD e a causa dello stare dentro casa fondamentalmente. I dati statistici già qualche anno fa non davano delle belle notizie, gli ultimi dati, e parliamo di dati 2022-2023, parlano del 50% della popolazione giovanile nei prossimi 30 anni miope, causato ovviamente dall'utilizzo sempre più accentuato dei dispositivi elettronici. Dispositivi elettronici che ci portano a una visione ravvicinata sempre più stressante, anche a causa della luce blu, che sappiamo tutti ormai essere uno dei problemi principali dello stress a distanza ravvicinata con questi dispositivi, quindi computer, tablet e soprattutto cellulari. Oggi fortunatamente qualche soluzione in più ce l'abbiamo, sia dal punto di vista delle lenti a contatto, così come delle lenti oftalmiche introdotte sul mercato ormai da tre anni, con la tecnologia di DIMS, scusatemi, tecnologia che tende a cercare di rallentare il peggioramento miopico evitando la crescita dell'occhio. Non si può parlare ovviamente di recupero o di miglioramento, ma sicuramente i dati statistici sono abbastanza confortanti, perché comunque oltre il 70% dei bambini che stanno utilizzando queste lenti ormai da tre anni ha un netto rallentamento del peggioramento miopico. Quando parliamo di rallentamento della miopia, di cosa parliamo? Se un bambino ultimamente aveva peggioramenti anche di una diottria in un anno, l'obiettivo di questa lente non sarà certo quello di bloccarla del tutto, ma magari di aiutare un incremento miopico minimo. Quindi se abitualmente ho, come dicevo, una diottria di peggioramento, magari con questa tecnologia posso avere uno 0,25 in un anno, perché l'obiettivo principale è portare il bambino di oggi a un'età adulta con una miopia contenuta, perché il vero grosso problema delle miopie elevate sono poi gli aspetti patologici che possono determinare le miopie alte. Anche in vista magari di una possibile operazione futura? Assolutamente sì, un discorso è fare un intervento su una miopia medio-bassa, e un discorso sarà fare un intervento su una miopia medio-alta. Poi ovviamente questi sono discorsi che riguardano l'aspetto puramente oculistico, quindi non mi permetto di subentrare. Però sì, sicuramente sarà più semplice operare una miopia di meno 2 che una miopia di meno 5. Ad oggi parliamo di dati ottica DR, quindi minimi e piccolissimi. I risultati sono di oltre l'80%. Tutti i bambini che hanno fatto lente con tecnologia DIMS ad oggi hanno avuto incrementi minimi nell'ordine dello 0,25. In prospettiva futura, quindi nei prossimi 30 anni, un ragazzo su due soffrirà di questo difetto. Attualmente invece il dato statistico qual è? Oltre il 39%. Sono già dati di qualche anno fa, sono stati confermati, quindi comunque oltre il 30% della popolazione giovanile in Europa è miope. Parliamo di dati abbastanza recenti. Consideriamo che in paesi asiatici, faccio un nome su tutti, Taiwan, oltre l'85% della popolazione giovanile è già miope. Questo può dipendere solamente dalle luci blu, come detto in precedenza, oppure anche da altri fattori? Sì, oggi i consigli che si danno ai genitori sono quelli di tenere i ragazzi più possibili all'aperto. La luce naturale tende a rallentare il peggioramento miopico. Oltre all'occhiale è presente anche qualcosa magari di più specifico anche per quanto riguarda le lenti a contatto? Oggi sì, abbiamo diverse soluzioni, dalla lente da ortocratologia di cui abbiamo già parlato in passato, abbiamo la lente a contatto giornaliera morbida, sempre con tecnologia DIMS, quindi ha la stessa funzionalità della lente da occhiale con tecnologia DIMS. Abbiamo la lente a rilascio graduale di tirosina, quindi una molecola naturale che va a indurire la sclera per evitare la crescita. Sia con l'una che con le altre i risultati anche in questo caso sono più che positivi, quindi assolutamente le soluzioni oggi ci sono. Sia con l'una che con le altre i risultati anche in questo caso sono più che positivi,